A Reuelto entriamo nel mondo dell'elettrificazione ed è la prima vettura ibrida che Lamborghini lancia sul mercato. In questo caso stiamo entrando con una vettura dalle caratteristiche incredibili in cui l'ibridizzazione non fa altro che enfatizzare le caratteristiche principali di una vettura supersportiva tipica di Lamborghini, che sono le prestazioni e il divertimento alla guida.